Il futuro è di chi ha un grande passato Nuova Giulietta Sprint Con interni sportivi e finiture Carbon Look Esclusivo design e nuovi cerchi in lega E il nuovo motore con tecnologia Turbo Multi Air Alfa Romeo Giulietta Sprint Da 189 euro al mese Anche GPL Turbo Vivi l'emozione da sabato 11 Grazie